Vi piacciono i film western? I personaggi tra cowboy e indiani? Buongiorno a tutti da Conoscenza Generale e oggi vi parlerò di William Frederick Cody meglio conosciuto come Buffalo Bill Egli nacque a Leclerc il 26 febbraio 1846 in una fattoria dell'Oiwa e morì a Denver il 10 gennaio 1917 all'età di 71 anni e venne seppellito su sua richiesta a Lukut Mountain in Colorado ad est della città di Denver William è stato un esploratore cacciatore statunitense attore e impresario teatrale dopo un breve corpo a corpo il capo indiano Mano Gialla nel 1876 nel quale gridò ecco il primo scalpo per Custer egli divenne un eroe nazionale Buffalo dopo la morte del fratello maggiore la sua famiglia si trasferì nel Kansas nel 1853 dove però fu vittima di un pesante clima persecutorio a causa delle posizioni antischiaviste del padre che per le conseguenze di un colpo di pugnale subito dopo aver tenuto un discorso contro lo schiavismo e gli morì nel 1857 poi qualche anno dopo cioè dopo sei anni sua madre morì e lui si arruolò nel settimo cavalleggeri del Kansas e prese parte alla guerra di secessione americana con gli stati dell'unione poi conobbe sua moglie ed entrambi ebbero quattro figli però non vi ho detto una cosa Buffalo dall'adolescente divenne uno dei corrieri a cavallo del Pony Express dopo il 1872 divenne la guida civile dell'esercito statunitense dalla Pacific Railway ricevendo la medaglia d'onore del congresso per aver dimostrato coraggio in azione dopo aver vinto una gara di caccia al Bisonte con William Comstock Cody divenne Buffalo Bill nel 1876 egli affermò di avere preso lo scalpo di un guerriero Cheyenne per vendicare la morte del generale Custer a Little Big Horn nel 1873 divenne un attore per 11 stagioni consecutive per interpretare una versione teatrale delle sue novelle grazie a uno scrittore popolare chiamato Ned Buntline e lo stesso creò uno spettacolo circense in cui venivano ricreate rappresentazioni western fra cui la battaglia di Little Big Horn dove il generale Custer perse la vita e questo avvenne nel 1883 questo spettacolo si chiamava Buffalo Bill Wild West Show e in questo spettacolo parteciparono Alcenero Calamity Jane e Toro Seduto fu una delle attrazioni principali a Londra durante il giubileo d'oro della regina Vittoria nel 1889 e all'esposizione mondiale di Chicago nel 1893 insomma un vero successo per più di 20 anni in Europa negli Stati Uniti poi fece anche spettacoli in alcune città italiane dove l'8 marzo del 1890 perse la celebre sfida nella doma di Puledri contro i butteri dell'agro Pontino Capitianati da Augusto Imperiali nel 1890 partecipò col grado di colonnello alle operazioni militari contro ECU che aveva già combattuto nel 1876 nel 1906 ritornò ad esibirsi in Italia ormai diventò un affermato showman di fama internazionale con le sue mancabili fucile e il conte Eugenio Veritas scrisse la celebre canzone popolare a Piemontese Buffalo Bill a Torino ed ecco qui che anche questo video è terminato io vi ringrazio per avermi ascoltato cliccate la campagna per essere sempre aggiornati sui miei contenuti condividete i miei contenuti diciamo i miei video nei vostri social network o anche tra i miei amici iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e e se vi piace il video mettete mi piace sia a questo ma anche a tutti gli altri ovviamente che ho girato seguite le mie playlist e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao